Ciao a tutti e ben ritrovati, bilancio Milan, bilancio Milan. Allora, siamo a parlare di questa cosa perché oggi c'è stata l'approvazione del bilancio 23-24 che è chiuso con un piccolo utile, ci sono state le parole del presidente Scaroni e poi ci sono state le vere cifre dell'affare Tonani. Facciamo una breve conversazione insieme su questo argomento per cercare di capire soprattutto come si possa spendere di più per ottenere di meno. Questo è il grande interrogativo che purtroppo aleggia sulle nostre teste. Sulla testa del Milan di una gestione Redbird sicuramente efficace dal punto di vista di partnership, dal punto di vista di sponsorship, dal punto di vista di tutto quello che finisce in ship, ma non c'è squadri ship, vincitori ship, trionfi ship, coppe ship. Purtroppo è un dato di fatto, non è che siano speculazioni mie per dar contro sempre e comunque la società, è un dato di fatto che l'ultima la gestione Redbird fino a questo momento non ha portato nulla e a quanto pare non ha portato neanche a un miglioramento della squadra, soprattutto alla luce di quelle che sono state le vere cifre dell'affare Tonani e i soldi spesi poi per alcuni giocatori. Scaroni dice bilancio 24-25 con il positivo, qui si parla già del prossimo, un piccolo utile o una piccola perdita non fa differenza. Scaroni si è detto anche infuriato riguardo alla faccenda legata alla partita di Bologna, evidentemente anche in questo caso la nostra voce, la voce dei tifosi ha funzionato ed evidentemente, evidentemente insomma la figura che la nostra società ha fatto rispetto ad altre cose che sono innegabili come la negligenza della Lega, come l'incapacità di dotarsi di un regolamento che possa far fronte a situazioni come quella che si è verificata o che si sta verificando sabato, sono evidenti come responsabilità. Però questo non toglie il fatto che noi, che continuo a credere, continuo a ribadire ciò che dissi qualche giorno fa, ovvero che noi politicamente, da un punto di vista di società, contiamo veramente poco. Ma questo lo si vede anche a tutti i livelli, lo si vede anche a livello mediatico, con l'ira funesta che si abbatte a seconda dell'indirizzo del vento su questo quel giocatore o sull'allenatore oppure su un membro della dirigenza del Milan, che è quello più facilmente attaccabile, mi riferisco ad Ibrahimovic senza voler ovviamente difendere una figura che però col Milan non ha a che fare, nel senso che non è un dipendente del Milan. Sono state alcune dichiarazioni di Scaroni che tra l'altro sono anche piuttosto simpatiche, come ad esempio questa, il costo per i tesserati è aumentato dell'8%, dice Scaroni. E lo dice anche con una certa soddisfazione. Il costo dei tesserati è aumentato dell'8%, io non so se questo sia un valore in assoluto alto, un valore in assoluto basso, magari me lo direte voi che avete sicuramente più conoscenza di queste cose. Quello che appare evidente è che a fronte di costi per i tesserati aumentati dell'8%, ma a fronte anche di un fatturato che aumenta, ma un costo di rosa che non aumenta poi così significativamente, lo abbiamo visto la settimana scorsa in una live dove abbiamo analizzato, grazie al contributo fondamentale del mio amico Enrico Berti Lorenzi e i numeri che lui ha trovato, abbiamo analizzato e approfondito il tema di come il rapporto tra alcuni elementi che sono cresciuti, dal prezzo dei biglietti e lo stadio fino al fatturato non si siano riversati sul lato sportivo, non si sono riversati per i dirigenti, non si sono riversati per i giocatori più di tanto e quindi credo che alla fine questo 8% non rappresenti poi una cifra così alta rispetto a quelle che possono essere le possibilità. Perché poi il tema è sempre quello, noi ci arrabbiamo, ci incazziamo per questo o per quell'altro anche perché non si fa tutto quello che si potrebbe fare lato sportivo per il Milan. Scaroni si è anche arrabbiato un po' sul discorso dei bonus legati alla realizzazione dello stadio, anche questa è una cosa che è emersa e naturalmente la famosa scusazio ci fa pensare come in realtà qualcosa sotto ci sia, ma ci fa pensare anche vista le ultime vicende che di bonus per i dirigenti per la costruzione dello stadio non se ne vedranno perché a quanto pare per quel che riguarda lo stadio siamo a carissimo amico. Ha detto Scaroni riguardo alla questione dello stadio, non ce l'ho qui comunque vabbè insomma dice sul rinvio, sugli investimenti, la gestione dei costi è importante, il nostro obiettivo è chiudere un bilancio buono, teniamo d'occhio con grande attenzione i nostri costi, tenerli sotto controllo della condizio sine qua non per continuare ad investire. piccolo utile o piccola perdita non ci crea tanta differenza, dice il presidente Scaroni che quindi sostiene insomma come al netto di quelle che sono state le cessioni il Milan abbia investito sul mercato. Ora il tema degli investimenti sul mercato coinvolge poi la qualità, la bontà di questi investimenti perché si può anche spendere ma è sempre il solito discorso, abbiamo esempi lampanti di squadre che hanno speso anche molto ma molto più di noi l'hanno fatto male non costruendo squadre all'altezza perché a costruire squadre all'altezza ci devono essere dirigenti all'altezza, ci devono essere persone che sanno di calcio e se anche loro, se anche loro, se anche dirigenti con comprovata esperienza e magari con un trascorso di vittorie possono sbagliare perché purtroppo il calcio ha talmente tante variabili che l'errore dietro l'angolo, figuriamoci chi si occupa solo di conti, chi si occupa solo di football manager e chi si occupa solo di scalate e di kickboxing. Fate voi un po' il tema, cioè è questo il quadro della situazione purtroppo agghiacciante per quel che ci riguarda alla vigilia tra l'altro di una partita molto importante. Comunque dice insomma Scaroni che si investe, che l'importante è il bilancio, il bilancio, il bilancio eccetera. A questo punto non mi stupirebbe se nell'intervallo della partita di domani venissero proiettati degli enormi file di Excel a San Siro con i nostri conti per festeggiare la Coppa del bilancio. Ecco, al di là della battuta lo scopriremo insieme tra l'altro perché seguiremo la partita insieme, quindi nell'intervallo magari chissà che non mi trovi a commentare dei powerpoint proiettati sul pubblico di San Siro per risultare per questa cosa. Questo è un aspetto importante, l'abbiamo sempre detto, ma è un aspetto che interessa sempre meno a noi tifosi. Capisco che il Presidente Scaroni parli di queste cose perché parla di queste cose, cioè di cosa deve parlare. Dello stadio non è lui, cioè è lui ma non è lui, ce l'ha detto lui. Delle questioni di campo Dio ci salvi, delle questioni di Lega Dio ci aiuti e allora parla di bilancio, ma ci tengo a portare questo mio messaggio. A noi non interessa più questo argomento, cioè nel senso l'abbiamo raggiunto, il pareggio di bilancio, abbiamo raggiunto anche l'utile, l'abbiamo messo in tasca o in un cassetto e adesso basta però, perché se no si continua con la solita ridda di giustificazioni, la solita però dobbiamo fare, però dobbiamo fare, però dobbiamo fare questo, quello e quell'altro. Cominciamo intanto, e qui mi rivolgo alla nostra proprietà, cominciamo intanto a mettere le persone giuste al posto giusto, cominciamo a mettere dirigenti capaci non solo di costruire una squadra, ma anche poi di seguirla, di aiutarla, per evitare che il Milan diventi zimbello, mediatico di tutte le altre, perché questa è una cosa che a noi ferisce, questa è una cosa che a noi fa male, anzi non dico noi, perché sennò poi qualcuno mi dice perché parli al plurale, e ha ragione, hai ragione amico mio, parlo per me, a me questa cosa dà fastidio, ferisce, non mi piace che il Milan venga preso in giro, perché ci sono continuamente sui giornali voci, indiscrezioni e anche campagne mediatiche contro questo, contro quello, o pro questo, pro quell'altro, a seconda di come tira il vento, ecco, questo non mi piace, soprattutto al di là di quelle che sono le personali considerazioni, le personali considerazioni sulla bontà di una determinata operazione in mercato, che poi si rivela tale nel momento in cui entra in gioco, quindi un acquisto o una cessione diventano valore o perdita nel momento in cui si gioca. Avrete letto sicuramente le dichiarazioni dell'altro ieri di Eddie Howe, il tecnico del Newcastle, che si è speso proprio in elogi nei confronti di Sandro Tonali, prima di vedere quali sono le cifre effettive e reali dell'affare Tonali, perché anche lì si è creata una gran cassa strepitosamente orchestrata da qualcuno che voleva un Tonali venduto a 80 milioni, si è arrivati addirittura a 80 milioni, cioè tra un po' Tonali sarebbe costato, anzi, se non fosse arrivato il bilancio pubblicato a mettere tutti d'accordo e a zittire i trombettieri, Tonali sarebbe costato quasi come Mbappé, se Mbappé fosse costato qualcosa, perché poi ricordo che Mbappé è andato a zero a Real Madrid, insomma, perché non tutti i parametri zero sono mali, è una battuta, per l'amore c'era una battuta, fate finta di non averla sentita, guardate qua, queste sono le operazioni in entrata per la stagione 23-24, Samu Chukwese 21 milioni di euro, queste naturalmente, credo siano al netto di quelle che sono i bonus, 21 milioni di euro per Chukwese, Loftus Chic 19 milioni di euro, Yunus Musa, il giocatore più pagato, 21 milioni e 177 mila euro, Okafor 15 milioni e mezzo, Christian Pulisic 21 milioni quasi, Reinders 20 milioni e mezzo, Luca Romero 2 milioni e 500 mila euro e poi Davis Vasquez che 810 mila euro. Queste sono le cifre degli acquisti e naturalmente poi a posteriori è facile attaccare, ma qui questo canale io ho attaccato all'inizio, quindi non sono uno di quelli che arriva dopo, io l'ho detto dal principio, mi sono ricreduto su Pulisic che grazie a Dio, grazie a Dio, al Dio del Milan che ci guarda dall'alto, si è rivelato un eccellente acquisto. Su Reinders mi permetto ancora di avere qualche piccolo dubbio, ma comunque lo ritengo un buon giocatore, sugli altri, vabbè, Chukwese non è riuscito a esprimere, si Loftus Chic purtroppo è un pesce fuor d'acqua, Yunus Musa 21 milioni e 177 mila euro, questa era la cifra sborsata per Musa, si dirà è giovane, si dirà è di prospettiva, me lo auguro di tutto cuore perché al momento non mi sembra che questa sia la realtà, ma veniamo alle vere cifre dell'affare Tonali, le vere cifre dell'accessione di Tonali al Newcastle. Allora, dal bilancio del Milan, ve lo faccio vedere a pieno schermo, si evincono le reali cifre del trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle, avvenuto nell'estate del 2023. La base fissa, senza il conteggio dei bonus del trasferimento del centrocampista, monta a 58 milioni e 900 mila euro, quindi non 60, non 70, non 80, non 90, 58 milioni e 900 mila euro. Da questa cifra va sottratta quanto riconosciuto al Brescia, pari a 4 milioni e 278 mila, la plusvalenza ricavata dalla cessione delle prestazioni di Sandro Tonali, ammonta quindi a 48 milioni di euro. 48 milioni di euro, che sommati ai soliti 40 e qualcosa messi vicino dalla società, ha fatto la campagna acquisti di due stati fa. Ora, sul fatto che ad esempio Redbird avrebbe potuto tirare fuori di tasca sua tutto l'ammontare senza cedere Tonali, questo non ci sono dubbi, sul fatto che non voglia farlo perché continua sulla stessa linea di Elliot, anche su questo non ci sono dubbi, ma io non aggiungo nulla a ciò che ho sempre detto riguardo a Sandro Tonali e riguardo anche a una modalità operativa che dal mio punto di vista è molto più vicina a quella di Maldini e Massara come idea, cioè il fatto di tenere una base di giocatori e costruire pian piano, pezzo dopo pezzo, inserendo alcuni acquisti che poi possono anche rivelarsi non sbagliati, non adatti all'ambiente Milan, mi riferisco ad Echeterare ad esempio, però fare le smargiassate che abbiamo fatto due stati fa non ha portato a niente, ha portato solo a Pulisic, ma voi vi immaginate se noi avessimo tenuto ad esempio Tonali e avessimo preso Pulisic più un altro centrocampista di magari, non lo so, un Ricci, ecco, faccio così un mercato proprio anch'io da football manager, mi trasformo in Moncadà e faccio football manager pure io, vi immaginate se avessimo messo insieme una cosa del genere? Perché un giocatore come Tonali, d'accordo, la questione scommesse, d'accordo, non lo sapevano, lo sapevano, non lo sapevamo, ok, perfetto, ma detto questo, detto questo, parliamo di calcio, parliamo di calcio, noi siamo stati comunque un anno senza centrocampo, quindi tutto sommato avremmo potuto assorbire la cosa, perché centrocampo in Milan non c'era, anche per responsabilità dell'allenatore, ma sta di fatto che quest'anno siamo nella stessa situazione praticamente, con un Fofana in più che sta dando una mano, ma non può essere il risolutore della stagione del Milan. Quindi, ve la faccio rivedere, la plusvalenza ricavata dall'accessione di Sandro Tonali ammonta a 48 milioni e 440 mila euro. A voi le considerazioni su queste cose, sul bilancio e su tutto quanto nei commenti, grazie.